Diamo il benvenuto a tutti i nostri ospiti internazionali e la Combat League per introdurre il Cool Loom Fight presenta un combattimento di arti marziali storiche italiane ed europee Grazie per la visione! Grazie per la visione! Il primo round sarà un regolamento da torneo tardo medievale quindi a combattimento continuato a squadre La prima squadra è formata da Marco Eramo all'angolo rosso, Daniele Eramo all'angolo blu, due giovani combattenti La seconda squadra interverrà successivamente e saranno premiati ai punti molto similmente agli incontri che abbiamo appena visto Questo è il settore storico della Combat League ormai da due anni attivo e possiamo dare in via al primo match Aguita Emiliano Lopez Vai Daniele! Tieni il centro Daniele! In croce e lega dai! Poi anche dai! Dai! Non c'è il come! E' il che riconosce! Non so il potere! Non so il potere! Doppiasi i soli! Bravo! Bravo Daniele! Più cattivo, più colpi Aumenta Daniele Vai sotto Attacca, dai Esci, esci Esci e rientra Colpiscilo Daniele, dai Più colpi Buono, buono così, continua a colpire Rimani dentro, rimani dentro La punta in faccia Vai, vai, vai Non ti ferma Daniele Non ti fermare, stiamo all'abbattimento Così, ancora Questa ha le trete stupide Bravo, vai, vai Insisti però Esci, non ti incatta di brilla Vai Così Daniele, vai ancora Suono Esci tirando Vai, vai, vai Stai concentrato C'è solo questo Buono, ancora Cambio combattenti Entra la seconda squadra All'angolo rosso All'angolo rosso E dopo i giovani combattenti Abbiamo i veterani Il team rosso Con giacca bianca Federico Casini E per il team blu Con giacca rossa Patrizio Licata Sono premio in mezzo al cazzo Vai Quanto di pica c'è E questa cosa che ho detto Da là Metti la Metti la l'astricolta E l'astricolta Fuori 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 I combattenti sono armati Oh dai E secondo round Fight Buono, buono, buono Crocia Questa era una piattonata Cerca l'incrocio a doppio Buono Bello Continua però Non lo fa rifiatare Ma vai Insisti Insisti così Entra Entra Cerca l'incrocio a doppio Dai Patrizio No 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 Tieni sta guardia Dai Patrizio Ho tre minuti Dai 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 Equipaggiamento Da ricontrollare Per l'angolo rosso E si può ricominciare Inferno Inferno Cerca l'intra Cerca l'interno E cerca l'interno E si può ricominciare Inferno Sono cifre spettacolari Dai dai regà Ci siamo Il quarto è al posto Si può ricominciare Vai No padrini Scrocia prima Buono buono Continuo Questo è il doppio Occhio Tento Vai 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 Insisti Due sverri E fendente in uscita Le punte su regà Tempo Grazie agli atleti Al centro per decretare Il vincitore Il vincitore Inili Il vincitore Il vincitore Il Grazie a tutti.